Abbiamo qui una versione di Curzio Rufo, un autore abbastanza discusso perché non si sa bene se si è vissuto nel primo o secondo secolo o addirittura nel terzo secolo d.C. evidentemente l'unica certezza che si ha è che è vissuto in età imperiale e scrisse un'opera in riferimento alla vita di Alessandro Magno che era sempre andata per la maggiore anche perché Alessandro Magno aveva già incaricato prima ancora di morire che qualcuno scrivesse le sue gesta e quindi su quegli scritti poi in seguito si ricamarono molte altre opere. Di Curzio Rufo i critici dicono che forse si può considerare il primo romanzo storico dell'età moderna anche perché una vera e propria opera storica non è quanto mai romanzata, può essere quanto mai piacevole. Curzio Rufo è in sintonia con il governo dell'imperatore ci sono dei riferimenti che sembra prima che esaltasse l'impero di Caligola poi sembra che tutte le cose con il passare del tempo anche gli atteggiamenti orientalizzanti di Caligola e i suoi eccessi non vennero più accolti favorevolmente, si pensò che Claudio potesse in qualche modo risolvere. Insomma la storia è abbastanza complessa e a noi interessa sapere che Curzio Rufo è l'autore di questa opera di Alessandro Magno quindi stiamo parlando di Alessandro Magno, in questo caso è Dario che è sul punto di scontrarsi con Alessandro Magno ed è tormentato da dei sogni premonitori. Vediamolo subito, io penso che da un punto di vista delle difficoltà questo testo può dare dei problemi per la traduzione lessicale. non ci sono delle proposizioni particolarmente complesse con subordinazione alla maniera ciceroniana però bisogna usare molto l'intuizione qui ad esempio qui ho scritto una traduzione tra parentesi perché cercare una soluzione che sia anche decente da un punto di vista dell'italiano non è proprio semplice proviamo a vedere Allora, se non si fa la costruzione qui non si risolve nulla perché ansium è un eum, illum, sottointeso di un complemento oggetto quindi qui abbiamo un complemento di argomento andiamo avanti, 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 perpio, accusativo moto per luogo, mezzo, che ne sappiamo non mezzo o no perché somnum è un nome di cosa l'unico soggetto che qui possiamo avere è queste species species per somnum, quindi vuol dire sta sognando costui il titolo ce l'aveva già detto, sogni di Dario quindi dovremmo parlare dei sogni di Dario dunque, species, i fantasmi imminensium rerum, degli avvenimenti che stavano per sopraggiungere semplicemente degli avvenimenti imminenti anche per somnum attraverso il sogno attraverso il sonno, vedete un po' voi cosa è meglio agitavano chi? Lui, ansioso questo è un argomento sulle preoccupazioni, sarebbe di nuovo imminenti che stavano per, che erano lì che lo tormentavano sulle preoccupazioni tormentanti lui che lo tormentavano invece di mettere un de sulle sarebbe meglio mettere un per preoccupato o dalle o per le ho già messo preoccupato quindi ansioso per le preoccupazioni che stavano, che si intravvedevano che gravavano su di lui quindi anche qui c'è da tradurre subito poi una volta che si è tradotto si aggiusta si aggiusta sempre cercando di rispettare i tempi dei verbi perché non cambiamo i verbi per aggiustare il lessico per la forma ecco perché sennò c'è il rischio poi di commettere degli errori sive, illas, e gritudo sive, divinazio, animi vedete che il gritudo non può essere che soggetto è anche divinazio perché sono della terza declinazione accessit è il verbo poi abbiamo una correlazione sive, sive, sia, sia e poi c'è un accessit che regge illas e animi presagenti su un complemento di specificazione che ha detto da divinazio proviamo a vedere sia la malattia chiamiamo l'allegritudo e le malattie sia io tradotto divinazio animi il presentimento del cuore dell'animo dell'animo presagentis che le presagiva cioè quelle quelle preoccupazioni di cui abbiamo parlato prima accessit accrebbe illas quelle le accrebbe quindi sia l'indisposizione sia il presentimento del cuore che le presagiva accrebbe quelle castra e vediamo quali sono questi questi sogni almeno ne vediamo uno castra alexandri magno inis fulgore con lucere eivis assunt et paolo post alexander aduce ad ipsumineo vestis abitu co ipse fuisse equo de inde per barbilona vectus subito comipso equo oculis esse subductus qui c'è la costruzione di videor ed abbiamo la costruzione personale di videor vedete se noi vogliamo fare una costruzione letterale viene fuori l'accampamento di alessandro sembrò vedete che sono singolare perché a casta castrorum in latino pluralia tantum quindi in italiano metto singolare se noi dovrei mettere gli accampamenti di alessandro sembrarono normalmente l'accampamento è uno l'accampamento di alessandro gli sembrò risplendere magno fulgore ignis da una grande luce di fuoco poi l'accampamento sembrò dalla forma personale io passo la forma impersonale e viene fuori sembrò che è l'accampamento gli sembrò che l'accampamento di alessandro brillasse di un grande splendore di fuoco poi sempre visassunt no non è sempre visassunt c'è un visus est perché vedete che qui abbiamo e sarebbe appunto meglio metterglielo facciamo così visus est perché visus est perché il soggetto santa polenta dunque visus est come vedete qui cambia il soggetto prima il soggetto è castro plurale quindi avvisassunt qui invece il soggetto è alexander quindi visus est ce ne sarà poi un altro visus est dopo e alessandro visus est sembrò paolo post poco dopo essere condotto a lui in quell'abito di veste in quel vestito no in quel vestito nel quale lui stesso era stato diamo la costruzione personale e poco dopo visus est sembrò che alessandro fosse condotto a lui in quello stesso abito in cui lui stesso era stato va avanti e c'è di nuovo un visus est sottointeso infatti abbiamo un soggetto da che cosa io individuo il fatto che ci sia il video sottointeso ma da due ragioni innanzitutto perché già prima abbiamo un visus est e noi sappiamo che l'italiano anzi siamo stati fortunati nel senso che il video ce lo troviamo subito nella prima proposizione poteva anche esserci visassunta non esserci qui ed esserci soltanto un visus est alla fine e allora avremmo dovuto andare a prendere un video qui diciamo che il latino si comporta come l'italiano nel senso che mette ci sono tre proposizioni con video te lo mette nella prima e lo sottointende nelle altre due il latino invece spesso fa il contrario sottointende nelle prime due e lo mette nell'ultima quindi qui siamo in qualche modo favoriti dal fatto che il video ce l'abbiamo subito ma poi il video diventa visus est perché il soggetto è Alexander qui è la visassunt perché il soggetto è Castra quindi dunque subito ah e poi la seconda ragione per cui noi pensiamo che ci sia un video e continui a esserci un video è perché abbiamo un infinitiva il nominativo cioè abbiamo la costruzione personale di Videor qui non la vediamo perché c'è un infinito presente no? qui neanche perché abbiamo un infinito presente passivo sono indeclinabili ma qui lo vediamo eh abductus s in una infinitiva ci sarebbe stato scritto abductum s anche qui Castra non lo vediamo che in accusativo perché nominativo e accusativo sono uguali ma qui Alexander lo vediamo è a nominativo e anche qui vectus quindi andiamo avanti Deinde poi sembrò facciamo subito in questo caso la costruzione impersonale sembrò che Alessandro stiamo sempre parlando di Alessandro vectus condotto equo a cavallo per Babilonia attraverso Babilonia subductus s fosse stato sottratto agli occhi improvvisamente con lo stesso cavallo adec vates varie interpretazioni curam dicstrinxerant vates soggetto curam complemento oggetto predicato verbale gli indovini avevano accresciuto l'ansia la sua ansia l'ansia di Dario interpretazione varia con una interpretazione varia adec su queste cose no vediamo quali sono le due interpretazioni date dai dagli auspici dai dai veggenti ali letum id regi somnium esse diceva quod castra ostium arsisset quod alexandrum deposita regia vesti in perso che divulgare abito per ductum atse vi disse e ci fermiamo qui notate che ci sono questi quad esplicativi io ripeto come ho detto altre volte se un mio alunno traducesse questi quad con una causale non segnerei errore notate l'arsissent al congiuntivo sebbene il quad per lo più voglia l'indicativo qui però siamo nel regno della supposizione visto che stanno questi veggenti stanno semplicemente proponendo dell'ipotesi ecco perché quando si propone un'azione ipotetica possibile si usa il congiuntivo almeno il latino vuole il congiuntivo l'italiano un po' così dunque ali dicevano vedete che c'è un'infinitiva come al solito incuneata dentro la proposizione principale che in questo caso è anche reggente dell'infinitiva alcuni dicevano che cosa qui abbiamo diversi accusativi letum id somnium esse che questo sogno era di buon augurio per il re che questo sogno era lieto per il re poi c'è la spiegazione per il fatto che l'accampamento dei nemici arsissen era bruciato per il fatto che alessandro non partiamo da alessandro perché è un accusativo dobbiamo ritornare al verbo ed il soggetto è sempre Dario per il fatto che Dario aveva visto chi Alessandro Alessandro all'accusativo di Alessandro colleghiamo per ductum condotto a lui in una veste persiana e umile deposita regia veste evidentemente un ablativo assoluto dopo aver deposto il vestito regale ora qui siamo in una correlazione alcuni dicevano questa cosa poi il testo dice qui dam non e basta è sottinteso tutto il resto qui c'era scritto alcuni affermavano che questo sogno era di buon auspicio per il re certi non lo dicevano cioè non dicevano che questo sogno era di buon auspicio per il re vediamo cosa dicono questi altri interpreti auguravantur quippe in lustri avaceto non castra visa fulgore amalissandro portendere auguravantur presagivano addirittura al contrario che cosa ci troviamo di fronte ad una oggettiva che l'accampamento illuminato dei macedoni visto portendere affermava fulgorem la luce per alessandro poi abbiamo quod vele regnum asia occupaturum esse poi c'è un'auda ambigua rei non è semplice neanche questo da tradurre che avrebbe occupato il regno dell'asia che anzi avrebbe occupato il regno dell'asia questo occupaturus esse è il futuro del congiuntivo presente in latino e quando si trova l'urus più sms asset corrisponde l'italiano al condizionale passato oppure potrebbe essere una perifrastica attiva per il fatto che era destinato ad occupare il regno dell'asia col quod è un po' strano il futuro però insomma non andiamo adesso a prendere a cercare i peli nell'uomo o l'uno o l'altro o lo intendiamo una perifrastica attiva per il fatto che era destinato ad occupare il regno dell'asia oppure era sul punto di occupare il regno dell'asia per il fatto che se vogliamo intendere il congiuntivo avrebbe occupato no? e poi c'è questo non di cosa ambigua non di cosa ambigua io non la posso tradurre così senza dubbio quognam è una subordinata causale è una congiunzione causale introduce la subordinata causale poiché fuisset si era trovato nello stesso poiché Dario si era trovato nello stesso vestito nello stesso abito quando fu proclamato re notate questo fuisset che è un predicato verbale vuol dire trovarsi non è una copola notate come anche qui abbiamo quella che io definisco comunemente attrazione modale e il fuisset congiuntivo lo traduco con l'indicativo italiano rispettando il tempo questa è una regola presente nel mio manuale là sotto le regole dei congiuntivi di nuovo attenzione non partire subito da vedere quoque omina perché qui revocaverter singolare ha come soggetto solicituto attenzione omen omina non è ne omnis omne tutto ne homo hominis uomo e homen hominis che vuol dire presagio la solicitudine aveva ricordato anche gli antichi presagi come per lo più è solita come per lo più accade Allora dunque qui se voi notate abbiamo qui non c'è dubbio che questa è la proposizione principale perché non c'è nessuna particella subordinante ma poi abbiamo dareum in principio imperi qual è il primo verbo che ci troviamo davanti iussisse quindi recenseban ha un oggettivo un'infinitiva che è questa dareum in principio imperi iussisse ma iussisse ha un'altra oggettiva infatti vagina acinacis persigan mutanine anforma quindi la principale che regge una subordinata primo grado oggettiva che regge un'altra subordinata di secondo grado di nuovo oggettiva attenzione attenzione qui a non confondere un verbo con un altro ricordavano infatti che Dario al principio dell'impero iussisse aveva comandato che cosa aveva comandato che la fodera la fodera persiana della cimitarra fosse mutata in quella forma che i greci usavano allora qui troviamo un quainablativo dovrebbe essere un complemento oggetto ma utor utor fungo forzo e vescovo sono verbi che i greci usavano abbiamo un congiuntivo che noi traduciamo in italiano con indicativo perché c'è di nuovo attrazione modale e poi andiamo avanti perché c'è un et un et un et che ci pone in correlazione alla prima oggettiva cioè ricordavano che Dario e che cosa ricordavano che subito i maghi caldei avevano interpretato qui c'è un S sottinteso attenzione che spesso e voledieri già detto tante volte e qui ci sarà un altro S sottinteso infinito passato passivo e infinito futuro attivo vengono presentati in questo modo senza S questo poi si presenta così perché è un deponente quindi forma passiva e significato attivo avevano interpretato e anche questa a sua volta regge un infinitiva che cosa avevano interpretato che l'impero dei persiani sarebbe passato ad eos quorum ed ecco qui la correlazione tra dimostrativo e relativo a quelli dei quali imitatus est sempre d'argio il soggetto a quelli dei quali aveva imitato le armi di nuovo una trazione modale laddove c'è un congiuntivo io lo traduco con l'indicativo mi raccomando sempre mettere in correlazione dimostrativo più relativo anche se non sono costruzioni non sono costruiti vicini in italiano in latino in italiano li dobbiamo mettere vicino a quelli di cui dei quali